ILEANO VIRTIS Moras VIRTIS È un ex poliziotto, nel suo precedente. Era di turno a controllare il detenuto. Dovete fermare Moras immediatamente. Bloccate tutte le uscite. Perché scappava? Ha ucciso VIRTIS mentre era sotto la sua custodia. La seringa vuol dire premeditazione e organizzazione. Non siamo di fronte a un secondino che ha avuto un attacco di rabbia. È un'organizzazione vero? Si tratta di ragazzine torturate, marchiate come bestie, e poi uccise brutalmente. Devi spostare le ragazze. Commissario, Sant'Emoras fa parte di questa organizzazione. Come procedono le ricerche? L'ho provato. Perché hai chiamato me? Perché ho letto il tuo articolo. Non è un assassino. Le persone cambiano. E tu l'hai ucciso? È un'altra parte.